Musica Musica Mercoledì 26 agosto, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. Preoccupa la regione, la situazione della Perugina perché il prossimo agosto 2016 termineranno i contratti di solidarietà e l'azienda però ha già dichiarato che i volumi produttivi di cioccolato sono profondamente scesi, allora si rischiano quasi 300 esuberi. E poi tante notizie anche di cronaca dai singoli territori, le prime pagine dei quotidiani, il giornale dell'Umbria che nelle pagine di Economia ci parlerà del crack cinese, ovvero quanto è costato agli umbri che investono in borsa proprio il crack del sollevante. Poi per la Perugina a rischio 300 posti, i sindacati sono sul piede di guerra. Dai territori la storia di una famiglia di Bevagna davvero singolare che ha adottato un cinghiale e poi a Perugia sono arrivati altri 100 migranti tra mugugli ed aiuti, sono sbarcati, verrebbe da dire così, a Ponte Felcino. A Terni si è tenuta la finale di Miss Umbria ed è la romana Claudia Casciani, con lei che ha vinto la coroncina. Il Corriere dell'Umbria, Perugina a rischio 300 esuberi, lo dicevamo, calano ancora i volumi di lavoro da 25 mila tonnellate di cioccolato, si scende a 23 mila e 500 nel giro di pochi mesi. Allora il rischio reale è che al termine della solidarietà, che a termina nell'agosto del prossimo anno, ci possano essere sole e suberi e niente di più. A Spoleto da domani si torna a girare per Don Matteo e nella prima puntata ci sarà anche Belen. Tra le protagoniste la crisi e le indagini dell'Istat, crisi, calano i suicidi ma aumentano i fallimenti. Tra il 2013 e il 2014 in Umbria sono state bruciate 481 imprese. Oggi è un giorno in cui anche il calcio accende i suoi fari perché ieri sono stati pubblicati i calendari di Serie B, Grifo e Fere, il primo derby è a Terni, l'appuntamento è per ottobre. Ed ecco proprio su questo argomento, titola La Nazione, Serie B, primo derby tra Terni e Perugia il 24 ottobre, e poi l'apertura dedicata invece ai lavori in centro a Perugia, la giungla dei cantieri. A Spoleto arriva da domani Belen per girare con Don Matteo e poi la Perugina, la crisi morde, Perugina verso lo sciopero. Oggi un focus della Nazione anche su Raffaele Sollecito, lo ricorderete sicuramente tutti quanti, è stato in carcere con l'accusa di aver ucciso Meredith Kercher. Bene, ora ha scritto un libro che racconta dalle pagine della Nazione. Il messaggero Gang del Gasolio caccia i clienti. Qualche giorno fa la Guardia di Finanza ha scovato a Bastia Umbra quattro persone che erano al vertice di un'organizzazione criminale che importava gasolio dall'est europeo per poi rivenderlo sotto banco. Ebbene, l'inchiesta si allarga perché ora si cercano anche i clienti di questa gang. Ovviamente anche il messaggero titola sul calcio e sulla Serie B derby appuntamento tra Ternana e Perugia il 24 ottobre. Andiamo a parlare anche di lavoro ed occupazione. È stato pubblicato il bando per quasi 100 posti di lavoro in regione. È un lavoro a tempo determinato, 2 milioni all'anno dall'Unione Europea per finanziare proprio questi posti di lavoro. L'angolo del meteo ci dice che da oggi torna l'estate, almeno fino alla fine di agosto, perché arriva l'alta pressione. La temperatura quest'oggi si manterrà nella norma, ma nel fine settimana, sabato e domenica, sarà davvero caldo. Questo per le prime pagine, nel dettaglio le pagine regionali partendo dal giornale dell'Umbria, che abbiamo visto dedica spazio in apertura al crack cinese. Un crack, dice il giornale, pagato assai caro dagli Umbri. Dall'inizio di agosto le famiglie e le imprese che investono in borsa hanno bruciato qualcosa come 144 milioni di euro. Un'estate rovente da un punto di vista meteorologico, ovvero come temperature, ma senza incendi, perché questo 2015 ne ha fatti registrare pochi. Grazie, si legge e si dice nel testo, grazie a un piano di organizzazione e prevenzione sul territorio che è stato messo in atto già dagli scorsi anni. Intanto, Corpo Forestale dello Stato e Carabinieri si va verso la fusione, ma questa ovviamente è una notizia di carattere nazionale. L'inchiesta, gli asili nido, bimbi in fila, entra uno su due, le rette dei servizi per l'infanzia, si mangiano circa il 10% dei redditi delle famiglie, guerra di cifre, fa pubblico e privato. Ricorderete sicuramente l'avvertenza degli uffici postali, perché il 7 settembre è il cosiddetto D-Day, cioè il giorno in cui i posti italiani chiuderanno gli uffici postali che si ritengono improduttivi. Allora, Lancia e le amministrazioni comunali sono pronte per il ricorso al TAR. Quali sono nella provincia di Perugia questi uffici improduttivi? Quello di Castella Ritaldi, Annifo, Capodacqua, Perugia, Piazza Partigiani, Sant'Egidio, Villa Strada e Collazione. Questi sono quelli che dovranno chiudere il 7 settembre i battenti. Le pagine regionali dal Corriere dell'Umbria, l'apertura dedicata all'economia, in due anni bruciate 481 imprese umbre, un fallimento ogni 36 ore, decisamente una foto non positiva per la regione. Il bando di selezione pubblica che cerca 94 profili per la regione e poi torna all'alta pressione, arriva l'estate settembrina. La Nazione per le sue pagine regionali, nel dettaglio titola proprio sul bando di selezione della regione e poi sulla Perugina, cacao amaro Perugina verso lo sciopero. Calo della produzione e rischio esuberi, serve un tavolo di crisi, lo chiedono i sindacati. Per le pagine regionali, il messaggero approfondisce un po' il tema del giorno, che è questa gang del gasolio e la caccia ai clienti. La Guardia di Finanza sta cercando quei clienti, soggetti privati, ma anche società, che acquistavano gasolio, ovviamente a prezzi irrisori, perché non era caricato del 50% delle accise statali, da questo gruppo organizzato che acquistava gasolio dall'estero. Tra l'altro, l'organizzazione criminale, secondo la Guardia di Finanza, era guidata da una 76enne, quindi da una imprenditrice. Facevano capo ad una azienda che ha come luogo di residenza la zona industriale di Bastia Santa Maria degli Angeli. Questo per le pagine regionali ed ora quelle locali, ripartendo dal giornale dell'Umbria, siamo a Perugia, dove sono arrivati ieri altri 100 migranti di quelli che sbarcano in queste settimane, in questi giorni, sulle coste del Mediterraneo. Sono 100, sono stati accolti a Ponte Felcino, ci sono stati anche dei mugugni, mettiamola così, tant'è vero che i pullman che li ospitavano, che li trasportavano, erano pattugliati, potremmo definire questa, la parola corretta, dalle forze ovviamente di polizia. In totale in Umbria siamo arrivati a 1.284 profughi. Intanto però la città di Perugia si è scoperta in questa estate piena purtroppo di senza tetto, dormitori cittadini sotto il cielo, dalla periferia al centro storico, nel corso dell'estate sono tante le persone che hanno trovato dei rifugi di fortuna nelle panchine e presso i parchi. Ancora Ponte del Tevere, ma siamo a città di Castello, nuovo look, sono terminati lavori di riqualificazione dell'infrastruttura che conduce fino al centro. Ad Umbertide il sindaco Locchi attacca Umbertide Cambia e dice sul bilancio basta con tutte queste falsità e poi ad assisi contributi alle imprese c'è un nuovo bando, le domande entro il 30 ottobre si potrà ricevere un finanziamento, una tantum. Anche il giornale ovviamente si occupa da Bastia Umbra della banda del gasolio. A Gubbio parcheggiatori abusivi scattano le sanzioni, raffica di controlli della Polizia Municipale soprattutto nel mese di agosto, multate 11 persone, in particolare 4 italiani e 7 stranieri per aver esercitato l'attività di parcheggiatore abusivo. Parcheggiati in un parcheggio vi aiutano a parcheggiare e poi sostanzialmente vi chiedono i soldi, questo è il senso. Tutto pronto per Sbandiamo in Piazza Grande 250 giovani musicisti che si esibiranno domenica prossima alle 17.30 e poi però prima di domenica ovvero venerdì a partire dalle 18.30 a Gubbio c'è la notte bianca dello sport. A Foligno invece domani sera prende il via il cartellone della giostra della Quintana quella di settembre tutto pronto si alza il sipario con la notte delle bandiere. Ma c'è anche a Spello un appuntamento da non perdere ed è questa sera alle ore 22 quando sul palco di Piazza Kennedy saliranno alcuni DJ della nazionale italiana DJ per sconfiggere le stragi del sabato sera. Abbiamo adottato un cinghiale e vive in casa con noi siamo a Bevagna la singolare storia di Doriana e Raffaele che invece del cano e del gatto in casa hanno come animale domestico un cinghiale. appuntamento sabato sera alle ore 21 in Piazza San Domenico a Foligno con il concerto della Budapest Orchestra ancora dal giornale dell'Umbria andiamo a Gualdo e Nocera a Gualdo Tadino centro storico via al restyling da domani si chiude via Roberto Calai per poterla ripavimentare e ancora da Gualdo c'è l'ok del sindacato in particolare la CGL sulla proposta fatta dall'assessore allo sviluppo economico Locchi di chiusura dei negozi la domenica lo leggiamo a titolo di curiosità siamo a Spoleto dove domani riprendono le riprese per la popolare fiction televisiva Don Matteo e arriva anche Belen che come dire per lei pronto un cammeo in una delle puntate iniziali della serie nel dettaglio le pagine locali dal Corriere dell'Umbria da Perugia ancora super premi ai dirigenti siamo in comune liquidate le indennità di risultato 2013 per ogni apicale del comune di Perugia intanto proprio a Perugia sono tante le famiglie senza casa Palazzo dei Priori cerca nuovi alloggi la cronaca lite in casa una ragazzina chiede aiuto al 113 telefona e dice mamma e papà stanno litigando ed interviene una pattuglia altri due furti all'interno dell'ospedale di Perugia un anziano ha sorpreso il ladro nel parcheggio del nosocomio e poi sempre per la cronaca nasconde dosi di eroina sotto il cambio dell'auto un giovane cade in trappola il tutto è avvenuto nella zona di Fontivegge sempre dal Corriere dell'Umbria per le pagine locali siamo ad Assisi corse notturne nei vicoli in sella a bici o moto l'amministrazione comunale non ci sta e fa un sopralluogo per capire come bloccare anche questa usanza tra l'altro ci sono delle vie senza illuminazione quindi diventa oggettivamente pericoloso Bastia Umbra piange la morte dell'ottico Stefano Tortoioli che è morto in un incidente stradale nei giorni scorsi e tra l'altro c'è anche un'inchiesta sulla dinamica dell'incidente ricordiamo era in moto ed è finito contro un'auto gara di solidarietà rivolta alle scuole a Bastia Umbra un'iniziativa dell'Avis per sensibilizzare i più giovani alla donazione del sangue questo per la stisate andiamo in Alto Tevere a Città di Castello Madonna delle Grazie è un giorno speciale per tutta la comunità celebrazioni quest'oggi in onore della patrona dal primo settembre l'immagine verrà anche esposta all'Expo solidarietà al reparto di cardiologia di Città di Castello il ricavato della Dombola promossa dall'Associazione Amici del Cuore e poi c'è stato un fortissimo temporale non questa notte ma quella precedente nell'Alto Tevere è stata una notte di super lavoro per i vigili urbani guardate la foto c'è anche una quercia secolare squarciata da un fulmine San Giustino è fra i primi dieci enti pubblici d'Italia che è puntuale nei pagamenti un bel record e un bel risultato per questo piccolo comune dell'Alto Tevere la cronaca da Città di Castello un uomo che era sottoposto agli obblighi di sorveglianza speciale in particolare doveva stare in casa nelle ore notturne per una restrizione della sua libertà personale è uscito e è stato picchiato da un altro soggetto quindi non solo ha violato l'ordine che gli imponeva di restare a casa ma è finito pure in ospedale per le percosse subite lavori lungo il torrente Vertola San Giustino si procede con il primo stralcio e poi andiamo a Gubbio dove l'abbiamo detto è stata presentata la notte dello sport l'appuntamento è per venerdì giro di vite dei vigili urbani contro i parcheggiatori abusivi e poi domenica c'è sbandiamo appuntamento dalle 17.30 per la politica c'è un'interrogazione di Gagliardi sul turismo in particolare il consigliere chiede l'UMI su un incarico da 12.000 euro piccoli programmatori crescono nella scuola primaria di San Pellegrino siamo a Gualdotadino un progetto pilota verrà attivato a partire dall'anno scolastico prossimo previste 7 postazioni informatiche via Calai chiusa oggi e domani per manutenzione del manto stradale un albo comunale che raccoglie i volontari che operano in città e poi ci sono i 5 Stelle che a Gualdo chiedono dove sono finiti i progetti come orti sociali e app del decoro urbano ancora da oggi fino al 29 agosto all'Easp via alle Olimpiadi degli Anziani le Olimpiadi dell'Easp a Foligno il sindaco Mismetti lo svincolo di Scopoli si farà anche se la sovrintendenza ancora sull'argomento non si è pronunciata la sovrintendenza ha tempo fino al 31 agosto per dare il suo parere sullo svincolo di Scopoli ma ancora tace tuttavia le istituzioni premono ovviamente per avere un pronunciamento a Foligno in via Benedetto Cairoli e via del Campanile siringhe vetri rotti e muri imbrattati e poi la Quintana che apre i battenti da domani sera con la notte delle bandiere e a Spello incontri per le strade ultima settimana con la chiusura data ad uno show arriva da Spello a 19 anni e si chiama Benedetta Grechi una delle persone iscritte alla giuria del Leoncino d'Oro ovvero il Festival del Cinema di Venezia ha vinto questo diritto e questo posto in giuria redigendo la migliore recensione su un film in un concorso dedicato proprio alla cinematografia Spello anfiteatro romano soffocato da erbacce e il sito archeologico è davvero in uno stato di incuria la nazione per le sue pagine locali da Perugia estate a ostacoli nel labirinto dei cantieri e Corso Vannucci viene anche reso carrabile quindi transitabile dai mezzi proprio per ovviare ai disagi creati al traffico dai cantieri sull'acropoli caos e disagi si legge anche fuori dal tunnel ovvero dalla galleria Kennedy di Perugia ancora per le pagine perugine sollecito torna scrittore della sua vita e dice questo è l'anno della mia rinascita a breve uscirà il libro che racconta la sua esperienza in carcere a Perugia titolo che libro che ha questo titolo un passo fuori dalla notte tutto quello che non avete mai immaginato su di me e poi la cronaca tu mi lasci io ti taglio i capelli uno stalker ora non può più avvicinarsi alla propria ex andiamo al territorio di Assisi e Bastia in particolare siamo a Bastia schianti in moto accertamenti sulla dinamica si torna a parlare dell'incidente che ha purtroppo causato la morte del 51enne di Bastia Umbra Stefano Tortoglioli a Todi il Todi Festival tributa una serata a Califano ad Assisi è ancora polemica sulla chiusura ospedale timori tra la popolazione per la gestione della sanità locale si ipotizza che l'ospedale di Assisi venga fortemente depotenziato andiamo a Gubbio scuola una raccolta di firme per gli istituti comprensivi botte risposta sulla riorganizzazione dei plessi scolastici i sindacalisti bocciano la proposta dell'amministrazione comunale perché metterebbe a rischio posti di lavoro proprio su Gubbio ancora Gubbio la notte bianca dello sport e poi da Gualdo giudice di pace pagheremo la sede di Gubbio lo dicono le opposizioni del centrodestra e poi a Gualdo Tadino appuntamento sabato con la 58esima festa dell'Avis a partire dalle ore 18 con il raduno in piazza Martiri in Alto Tevere fornitori San Giustino è un comune virtuoso l'abbiamo visto questo comune tra i primi dieci in Italia per puntualità di pagamenti ai propri fornitori un fulmine ha spazzato via una quercia a città di Castello due notti fa e poi ad Umbertide aumentano le tasse è falso parla il sindaco l'occhi di risposta ad Umbertide cambia il festival delle nazioni che è in svolgimento domani attende l'esibizione al Palazzo Vitelli nel giardino di Palazzo Vitelli del grande Goran Brekovic ma nel programma del festival che ricordiamo celebra l'Austria e anche i cento anni dall'ingresso dell'Italia nella prima guerra mondiale c'è un concerto al cimitero monumentale sorvegliato speciale aggredito in strada lo abbiamo già detto e poi il gorgone restaura una lapide la soddisfazione del sindaco Bacchetta Foligno più di 1200 difusi hanno salutato il nuovo Foligno presentato al campo degli giochi campo degli giochi dove tra due settimane torna la giostra della Quintana che da domani apre i festeggiamenti c'è spazio anche per parlare di scopoli 8 milioni di euro dallo sblocca Italia per la realizzazione anche dello svincolo di scopoli le pagine locali dal messaggero Perugia Corso Vannucci si apre alle auto per due settimane lavori sull'acropoli così come arriveranno lavori per riqualificare il Santa Giuliana con una dotazione monetaria di un milione di euro a Gubbio traffico in tilt per la frana di via Tifernate problemi a San Secondo bloccato l'accesso alla Contessa avviate le indagini geologiche a Gualdo Tadino viene invitata in città una delegazione dei Carpazzi per i prossimi giochi delle porte e poi siamo a Foligno con le sue pagine locali finti amici e falsi massaggiatori raggirano e derubano gli anziani un viaggio questo che viene fatto dal messaggero tra le truffe più frequenti che purtroppo colpiscono la terza età svincolo di scopoli nuovi passi avanti perché sono stati appunto stanziati soldi e poi torna a Foligno a San Domenico classica d'estate in piazza San Domenico l'appuntamento sabato alle ore 21 prima di lasciarci uno sguardo all'economia che quest'oggi è incentrata quasi unicamente sulla vicenda della Perugina 300 posti a rischio ora è agitazione così titola il messaggero e poi il corriere che su questo argomento titola Nestlé Perugina produzione giù rischio 300 esuberi si produce sempre meno cioccolata e quindi si rischia che in tanti vadano a casa almeno tra un anno bene questo per le pagine di Cronaca ci fermiamo solo per qualche momento e poi lo sport e poi lo sport e poi lo sport